Siamo davanti all'ingresso principale e fa poco suonerà la campanella. Ora siamo nel lato della nostra scuola che è ampio e luminoso. Saliamo le scale, seguitemi, vi mostro un'aula. Come potete vedere, tutte le aule della nostra scuola sono dotate di smart tv o lavagne multimediali che ci permettono di svolgere le lezioni in maniera più coinvolgente perché possiamo approfondire gli argomenti con l'ausilio di audio, video e documenti autentici. Inoltre la scuola è dotata di un buon numero di computer e combooks che vengono riposti in questo armadietto dopo averli utilizzati. Questo è il giardino esterno, grande orgoglio della nostra scuola. È davvero ampio e nelle belle giornate di sole ci permette di svolgere lezioni all'aperto e fare attività fisica e sportiva con i nostri insegnanti. Ora attraversiamo questo porticato, da poco ristrutturato, e arriviamo alla palestra, che è molto spaziosa, luminosa e confortevole. Per noi alunni l'attività fisica è molto importante e ci divertiamo tantissimo. Caratteristica fondamentale della nostra scuola è l'indirizzo musicale. Qui potrete imparare a suonare la chitarra, il pianoforte, il flauto attraverso e le percussioni con i nostri bravissimi insegnanti. Le lezioni si svolgono nelle ore pomeridiane, gli alunni sono al massimo due per volta. Ci sono anche ore di musica d'insieme. E alla fine dell'anno potrete cimentarvi nel saggio annuale e suonare tutti insieme davanti a un pubblico vero. Nella nostra scuola le lingue sono molto importanti. Studiamo tutti l'inglese e possiamo scegliere una seconda lingua comunitaria, tra francese e spagnolo. Oltre all'insegnamento tradizionale, è possibile fare esperienze sul campo. Sono ormai 12 anni, infatti, che vengono proposti ai ragazzi soggiorni linguistici all'estero di otto giorni durante l'anno scolastico. Buongiorno, al Collegio Fontana, ho studiato francese. Per me, parlare francese è l'occasione di apprendere un'altra cultura e di rinconciare con gli amici nel mondo. Apprendere francese non significa solo studiare una matriera come gli altri. Ci sono molte mani di pratica la lingua. Escoltare la musica, guardare le serie di tv, le video e le film. Parler ai copiati. Mi piace francese perché è una lingua molto riche, musicale e anche romantica. Un giorno, io vorrei andare a vivere a pari. Au revoir! Perché dovete apprendere l'anglico? Ci dà l'opportunità di essere in conto con altre culture e persone di tutto il mondo. Apprendere l'anglico non solo studiare su libri, ma anche studiare, parlare, parlare con i nostri insegnatori. Escoltare l'anglico autentico, frulli, dialoghi e canali, guardare video e film. Sarà divertimento perché l'apprendere l'anglico è un'adventura vita vita. Ola! Apprendere l'anglico è un'opportunità per apprendere di altre culture e essere amici per tutta la vita. Apprendere l'anglico non solo significa essere in classe studiando. Existono molte mani in cui puoi praticarlo. Escoltare la musica, vedere la televisione, video e film, parlare con i nativi. Se cercate un ambiente accogliente e ricco di opportunità, la Scuola Media Fontana è quello che fa per voi. Apprendere l'anglico non solo significa essere in classe studiando.